ciao ragazzi calendario pupa 11 dicembre vediamo di aggiustare la videocamera ok l'undici e l'undici e questa scatoletta qua l'undici abbiamo questo elastico per capelli io non c'ho proprio niente da legare però vabbè il colore è bello però vabbè diciamo che me li leggo tanto c'ho dei capelli da schifo comunque ci avrò dei capelli da schifo comunque c'ho sempre dei capelli da schifo ok e così mi do un po' una sistemata ok e con questo è tutto ciò alla prossima